Antonio Aquilanti al termine di Reggiana Feralpisalo 1-0, dispiace questa sconfitta, un'altra prova brillante, forse ancora migliore dell'ultima partita contro il Pordenone, però purtroppo stesso risultato. È un periodo che ci sta girando così, facciamo la prestazione, creiamo tanto ma non riusciamo a concretizzare e alle poche occasioni che concediamo subiamo gol. Purtroppo non c'è medicina che è lavorare, lavorare, lavorare e compattarci ancora di più a partire dalla società, dallo stoffo tecnico, ai giocatori, essere alla gente che comunque ci ha sempre sostenuto e compattarci ancora di più e cercare di andare a trovare la partita della svolta perché a mio avviso per quello che stiamo creando, per quello che stiamo facendo in campo, se riusciamo ad avere una giornata fortunata, andarci a cercare la fortuna, secondo me può essere già da terra ma magari sarà la partita della svolta. Ritorno a giocare nella tua regione a Teramo, però questa sera per te è una gara con la fascia da capitano, sei stato abituato tanto spesso con la maglia del Lanciano, questa sera la prima volta con la maglia della Feral Pissolo in assenza di Bracalei Teranellucci. Mi ha fatto molto piacere questa fiducia che mi è stata concessa, spero di ripagare con le prestazioni in campo e dando la mano al gruppo, speriamo che la mia regione ci porti fortuna perché veramente ce la meritiamo. Grazie.